Il provvedimento comunque del DPCM approvato ieri è un provvedimento molto penalizzante per il settore del turismo, del commercio e della ristorazione. Come sempre sono i settori trainanti dell'economia nazionale, ma sono i settori che vengono pesantemente colpiti. Mentre c'è un mondo che va avanti, trasporti, fabbriche, altre attività economiche, il settore colpito è questo, che rappresenta il 75% della ricchezza nazionale. Io non ho capito dove vogliono andare a parare questi del governo quando proprio il settore che traina, che non sono le fabbriche, viene colpito in questo modo irrazionale. La risposta a queste limitazioni ai ristoranti ufficiali viene proprio dai dati del Covid, cioè cenoni fatti non si sa dove, festiciole più o meno private, assembramenti comunque non nei locali pubblici. Quindi c'è un accanimento nei confronti di chi rispetta le regole che è inaccettabile, anche perché nel settore della ristorazione il 20% del fatturato lo si fa in questo periodo. Con le limitazioni al transito delle persone da comune a comune, con le chiusure per Capodanno che non si può festeggiare, siamo allibiti anche per l'inapplicabilità di alcune norme. Pensiamo nel settore del commercio, attività che sono all'interno dei centri commerciali o comunque denominati gallerie o aggregazioni di negozi, staranno chiuse nei giorni festivi e prefestivi. Gli stessi negozi però fuori dalle aggregazioni stanno aperti. Tra la penalizzazione per le chiusure anticipate e la non apertura serale, che noi speravamo almeno fino alle 22-23 venisse consentita la possibilità anche ai ristoranti di lavorare anche la sera. Invece no, solo a pranzo, chiusura alle 18, non il Capodanno, non il Natale di fatto, perché poi col fatto che non puoi muoverti dal comune di residenza, se uno ha la sfortuna di abitare in un comune dove non c'è neanche il ristorante, non si muove, non si mangia il giorno di Natale. Se poi c'è un ristorante in un piccolo paese, ma il ristorante è famoso, dovrebbe dare da mangiare solamente ai residenti del comune, penso a tanti borghi dove abitano pochi anziani e poc'altro, quindi vuol dire non lavorare.